Allora, Call for Brain è per noi di Fondazione Filarete una grande occasione, è il secondo anno che partecipiamo e sosteniamo questa iniziativa e riteniamo che sia un grande punto di incontro, questo è il valore che associamo al nome Call for Brain e all'attività che qui si svolge. L'interdisciplinarietà, l'internazionalizzazione con la possibilità di collegarsi al TEDMED e la possibilità di avere contemporaneamente persone che lavorano in diversi ambiti collegate alla salute è per noi che ci occupiamo di salute, di start-up, di innovazione da molti anni a Fondazione Filarete una grande occasione di partecipazione e di confronto. Io credo che il valore dell'attività di Fight the Stroke sia il valore di chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie energie in una logica che è quella di tutto il terzo settore, di portare avanti ideali e tentativi di migliorare il sistema a partire da esperienze personali. Questo è un punto che dà energia, risorse in più e che le istituzioni si trovano a poter avere la possibilità di sostenere attraverso iniziative come queste. Secondo me il lavoro di Fight the Stroke ha un grande valore per questo.